Ma proprio com'è di cominciare, eh? Vabbè, inizio io e volevo dire, cioè ci tenevo a dire che sono assolutamente contro la droga, ecco. Non mi sono mai fumato una canna. E' un po' tutta la situazione mi faceva passare per un fattore. Invece il ganjalf, secondo me, quello lì, qualche canettina. Beh, devo ammetterlo, dai. Quando ero giovane ogni tanto l'ho provata, ecco. Però, cioè, non c'è niente di male, alla fine è una cosa normale. Poi con il tempo smesso, però mi sono trovato bene, ti puoi dire, sì. Perché, cioè, alla fine ho lavorato con gli altri che loro bene o male fumano, è una cosa normale. Dunque, io ci tenevo a dire che non ho, non sono, non sono gai, ecco. Cioè, mi hanno obbligato. Non è frotto? Non lo so, cioè, io lo vedevo, sempre con le sue carote, ma anche dietro le quinte. Non era tanto dispiaciuto, eh. Boh, ma non so cosa ci faceva, però... Cimbe, che c'entra? Il canote è una passione che ho da, 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 da sempre, ma perché fa bene alla pelle. Non male, male al culo. Carote a parte, devo dire, che questo film, secondo me, è stato veramente una cosa geniale. Non si capisce no cazzo, proprio. Quando parla Kill, non si capisce niente. Vabbè, il film è stato buono. Se non fosse che ero così truccato che mi parevo a platinetta. Vabbè, comunque a cazzo ho tutto il proprio guaglione. Sono andato subito in atmosfera. Abbiamo fatto i feste. Oggi ho portato... Oggi ho portato la mozzarella, che è la buona. Eh, da Napoli. Abbiamo... Abbiamo fatto pure i salsicci. Nel film eravamo sempre di corsa. Non c'era mai un attimo di pace. Non si poteva stare tranquilli. Però l'è bello. Va bene? Finito? Devo parlare ancora? A parte tutto, il film tratta delle tematiche sociali non indifferenti. Come la liberizzazione delle droghe leggere. Che secondo me, cioè, è una cosa dovutissima. Non vi pare? Cioè, senza, senza le droghe leggere, cioè... Quello che voleva dire è che noi, che abbiamo un po' provato, ma una sola volta, eh, non... Non è un... non è una brutta cosa. È, alla fine, è una cosa naturale. Cioè, cresce per strada, si coltiva, che problema c'è? Capito? Eh, beh, loro due non sono mai stati bravi a parlare, no? Però hanno delle idee che io personalmente condivido, diciamo, ecco. Cioè, il fatto di libertà di fumare non è una brutta cosa. A me l'unica cosa che dava fastidio nel film, ad esempio, era la barba, sì. Perché fumare con la barba, non sono abituato, nello bruciavo sempre. La cosa più bella per me del film è stato limonare con Liv. Cioè, bella. A parte come parla. A me la cosa che mi è piaciuta di più di tutto il film sono stato io. Effettivamente questo film non sarebbe stato lo stesso senza di me, ecco. Ma ancora qui queste telecamere non le sopporto, cioè, mi vien da grattarmi. Perché, non so, il gioco è bello quando dura poco, ma... Non so, qua, devo dire... Cosa devo dire? Cioè, scrivetemelo e magari poi ve lo leggo. Se mi è piaciuto questo film... Beh, è brutto! Grazie a tutti!